Buongiorno! Casalecchio di Reno siamo in partenza direzione Bassano del Grappa! Io sono Cato, io sono Miles, io sono Gianni e stiamo arrivando! Eccole! Aiuto, aiuto! Questo è il nuovo prototipo by Vapers for Peshaw Questo è il tasto di attivazione, si tira da sotto, no con due dita perché è un po' lavorata, quindi due dita, qua ci vuole il tip, tu fai così e poi svapi Eh, si vede anche da dietro qua, tu fai Dato tutto prototipare ragazzi, test su test, progetti falliti, disegni altati che non hanno voltato mai a tutta Dato il prossimo mesi di sperimentazione, tu dovevi fare un posto! Guarda! Allora, ti rimango! Stiamo presentando con una scopo in anteprima, il nuovo prototipo, attenzione vedete Il nuovo prototipo è un sistema un po' particolare E adesso ci saranno due dita, che è un po' particolare E adesso ci saranno due dita, che è un po' particolare C'è quello in brass 220 euro, poi c'è quello placato in glutenio, che sempre va di solo 5 e li vendiamo 840 euro Vedete il granchio? Vedete il granchio? Vedete come da dentro questa labbra figa Ahahahahahah No, dall'altra parte Non guarda giù! Eh, questo non può Eh, non è mai mai Non è mai 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 Stiamo provando a lanciare questo nuovo tubo che da fuori notte Ma è mai più Non 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 è mai più Ahahahah Ahahahah Bravo! Spince! Ahahahah Senti la sensazione di tanto Ahahahah Ahahahah Spince! Ahahahah 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 Avalonne! Siamo consigli per farlo pagare se faremo vedere anche lui il nostro prototipo Prenditi Prenditi Monti la birra Gli ho spaventato due mani Eh? Non devi scommettarvelo Dici cosa ti riporto Vai 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 C'è il bagliaccio che salta fuori No 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 Meglio Ahahahah Sai che tu sapevi cos'era? Eh? Dovevo fare un regalo a una persona per fargli arrivare il negozio Era la stessa cosa Ahahahahah Siamo stati trollati No Ragazzi ve lo dico io questa ce l'ho a casa pronta da spedire a una persona che conosceva Che è quella di cui si parla di prima Quando due sono deficienti hai capito che c'è un problema Quando due ce ne sono tre Però raga Però senti la sentita Però mi fa male se si comincia così con il buchino eh Eh no dai cazzo eh Lo senti molto bene prova Ecco così fa fire Così fa fire Ma dentro è figa eh È figa eh Eh Non ti farei le tucce Non ti farei impressionare adesso che ci sono cose a mezzo Aspetta Devi inquadrati bene E' un po' più indietro Ma è un po' più indietro che non si vede bene Questa è la questione Ragazzi il parere di Enrico P è Questo è un cazzo Dove è stanzi fuori Ma che E' un po' più indietro che non si vede bene Questa è la questione Ragazzi il parere di Enrico P è Questo è un cazzo L'acqua calda ha sciacquato E' tornato come nuovo garantisco Non ti posso credere Veramente Acqua calda Acqua calda torna come nuovo Guarda Via l'ossido Troppo voltage resistente Ma la cosa è bella Ma non si rompe La cosa è bella Mi ricordava qualche forma strana E' un po' più indietro E' un po' più indietro E' un po' più indietro Oh davvero quello D'un po' più indietro Due dita per il modo No di Vapers for Passion Che ci vuole E' una cosa è spingua E' una cosa è spingua E' spingua Noi ci conosciamo già Allora, al mainstream Dovemmo farvi vedere il nostro prototipo Che è andato molto con le mani sguabri Stiamo facendo vedere qua le persone che erano Questo è il packaging che è un po' così Diteci la vostra Non so Non so Non so Anche noi abbiamo avuto un tocco innovativo Abbiamo voluto fare Perfetto Vieni qua apposta perché così mi trova meglio E gli amico o no? Quando sono il tournée Sì, ti chiedi Mi farei qualche altra presentazione Ma che voglio vedere qualche altra reaction Mi chiamo con la radio Oh